Il benvenuto all'Unione Tecnico della Vis San Nicola, Gigi Squillante. Faccio un saluto a tutta San Nicola, con l'auspicio che comunque questa tiposeria a me è molto caro e mi dia una mano per arrivare ai traguardi prefissatici. L'ambiente è un po' depresso, serviva un leone in panchina. L'ambiente è un po' depresso perché a una vittoria si gioisce tanto, è una sconfitta, magari si va in depressione. Ci vuole la giusta misura e dobbiamo continuare a vincere come hanno fatto l'anno scorso, facendo sì che a una vittoria non ci sia troppa euforia e una sconfitta non ci si deprima facilmente. Mistre, questa vis dove può arrivare? Io penso che con qualche accorgimento possiamo vivere nei posti alti della classifica. Lo dico perché sono convinto di questa squadra, di questa società e sinceramente sono convinto di quello che io posso impartire a questi ragazzi. Questa non è presunzione perché in effetti la mia storia dice che forse ho vinto qualcosa.